Siamo di nuovo in presa diretta con la conclusione, la rete del nuovo entrato, Alex Pedone, che gol spettacolare, al volo la conclusione del centrocampista di Dolcetti, 2-0 per il Milan, è festa sulla panchina rossonera, Jacopo. Sì esatto ed è venuto subito a ringraziare il mister Dolcetti che l'aveva appena fatto entrare e così come Petagna che era proprio sulla riga dell'out perché è pronto ad entrare anche lui.